Nell'affrontare l'impegno della competizione elettorale per le elezioni a sindaco di Capaccio Pestum, Pasquale Marino, già sindaco della città dei Templi, si ricandida alle prossime comunali. Le attuali condizioni dello sviluppo sono sotto gli occhi di tutti. Comincia così la nota stampa dell'ex primo cittadino. Capaccio Pestum è una città moderna, evoluta e sviluppata. Oggi, come accade nel lungo periodo, emergono esigenze di nuova riqualificazione e di adeguato riordino del territorio, da realizzare con il completamento delle opere infrastrutturali e il recupero degli standard. Preservare l'identità naturalistica, storica e archeologica e, al tempo stesso, assicurare sviluppo senza inquinamento, occupazione e migliore qualità della vita. In questo attuale contesto della fase evolutiva in cui viviamo, sarà necessario guardare prioritariamente alle problematiche dell'ambiente, dell'ecologia, della scuola e della cultura, delle arti, della storia e dell'archeologia. Particolare attenzione sarà prestata alla realizzazione di due poli scolastici, uno al capoluogo e l'altro a una città della scolastica con annessa biblioteca nel centro urbano tra Capaccio Scalo e Rettifilo. L'istituzione Poseidonia, da me voluta, sottolinea Marino, dovrà rientrare nei compiti di proposizione e coordinamento delle attività culturali, affidandone la conduzione a personalità locali, del mondo culturale che hanno onorato con la ricerca e lo studio il nostro comune. Non è possibile pensare alla modernizzazione delle attività economiche privandosi della collaborazione degli operatori economici e dei rappresentanti della società civile. E conclude, sarà necessario garantire il coinvolgimento diretto dei rappresentanti del terzo settore e di coloro che tutelano i poveri, i malati e le persone incapienti.